Rispetto all'ottimismo che alleggiava nell'autunno 2021 per quanto riguarda la ricostruzione post sisma, ora prende spazio un po' la preoccupazione, a sottolinearlo in un lungo post su Facebook il presidente della Regione Marche che dà conto, come avviene sistematicamente e periodicamente, di un ennesimo punto sulla ricostruzione con l'assessore delegato Guido Castelli. Dopo l'ordinanza 126 sul preziario, osserva il presidente della Regione Marche, occorre assicurare un monitoraggio costante e continuo dei prezzi delle materie prime, perché con lo scenario attuale potrebbe rendersi necessario un ulteriore aggiornamento. In questo senso stiamo portando avanti un confronto continuo con le categorie e con i tecnici, per comprendere se e quanto sia necessario intervenire di nuovo. Certamente sulla ricostruzione privata incide fortemente anche la scarsità delle imprese, ora maggiormente interessate, a lavorare con il super bonus. Ma rispetto a questo nulla noi possiamo. A preoccuparmi è anche l'ancora basso numero delle domande per la ricostruzione delle abitazioni presentate, ammette Acquaroli. Certamente i segnali che arrivano nell'ambito dei servizi scolastici e nell'ambito della ricostruzione pubblica non sono incoraggianti né convincenti nei confronti di chi da ormai sei anni è costretto fuori casa e in sistemazioni di emergenza. Oltretutto non è facile la scelta di restare a vivere in un luogo dove non si riesce a vedere certezza sul futuro e dove il presente è precluso da interi paesi, palazzi, chiese e strade tutte ancora da ricostruire. Questo ritardo nella ricostruzione pubblica, prosegue, incide pesantemente anche su una larga fetta della ricostruzione privata. A mio avviso è altrettanto allarmante il segnale di marginalizzazione del ruolo delle regioni nella rigenerazione economica.